Siamo con Ciga e capitano garenero del Valmaira, da poco ho finito la partita contro il Valvermanagna, che partita è stata oggi? Il Valmaira va in prima categoria, che gara è stata? No, comunque gran partita, grandi ragazzi, sotto 2-0 e con un cuore pazzesco siamo andati a riprenderla e io posso solo fare i complimenti a tutti i miei compagni, a tutta la squadra, al Ministero Società, io penso che se lo meritino tutti perché è anni e anni che ci stiamo provando, è anni che siamo qua un gruppo pazzesco e sono contentissimo più per loro che per me, veramente contento per tutti. Nel giro non mi aspettavo questa vittoria, dopo 2-0 abbiamo fatto 1-2-1, 2-2, dopo 3-2, ma non mi è una cosa che non aspettavo, ma alla fine avevo vinto, sono contento con la squadra, con tutto, sono contentissimo, grazie. Oggi è anche la gioia personale del gol? Il gol, ho fatto il gol, non aspettavo che facciamo il gol, perché ho messo in testa così, entrava, comunque è una cosa bella, io sono contento per fare un gol così, sono contento, grazie. Come festeggerete quindi? Adesso vediamo, poi il Presidente in teoria ha fatto una promessa che ci manda tutti a Barcellona e facciamo una bella festa tutti insieme giù, quindi speriamo di mantenere la promessa, che mantenga la promessa e festa tutti insieme perché è meritata per la stagione. Buona festa allora! Grazie mille, grazie!